Ciao! Ciao a tutti, bentornati, benvenuti. Come state? Oggi qua un ospite, un ospitone, un grande ospite che voi non lo sapete ma è sempre dietro ai nostri schermi, sempre dietro a tutto quello che vedete, forse lo sapete già. E comunque è Bianca Rovati! Ciao, ci tengo a dire che comunque è la terza volta che vengo se non ve lo ricordate. Allora, scusami, tu hai fatto? Quella dei giochi? La puntata con Lollo, che il giorno dopo mi sono svegliata con una malattia grave che ha segnato il 2020-2021-2022. Veramente? Ah, è vero, sei stata malissimo. Quella puntata purtroppo non si può più vedere perché, raga, più brutte di così. Però era tanto divertente. Era tanto divertente, anzi, guardatela, però, cioè, guardate... Ascoltatela. Sono tanto Lollo. Sono Lollo uguale, ma forse anche tu non eri così... Non ero in forma. È bella. Vabbè, però. E l'altra qual era? E l'altra era quella con Andre. È vero. Che parlavamo di... De organizzazione. Organizzazione. Che brutta. Parlavamo molto di Benny e... È vero, è vero. Ok. È vero, è molto divertente. Non so se avete notato, io sono dal lato opposto, di solito non ero mai di qua. Fatemi se si vede sono più carina, oggi sono più cessa, così. Sì, allora, la teoria di Nina è effettivamente il suo lato migliore... È questo. È l'opposto. Ma lei cosa fa? E poi ci ha pensato adesso... Non ha così senso, perché comunque adesso ti vedono col... Comunque... L'altro giorno con Alice, Alice era lì e lei ogni volta per guardarla cambiava profilo dall'altra parte. Quindi ha pensato che oggi guarderei me col profilo giusto. Forse... Quindi guarderei solo viola. Bianca non la guardo mai. Fa la puntata con Bianca. Aspetta, chi è che sta parlando? Sento una zanzara. Comunque... E basta. Proseguiamola. Siccome io studio moda, fashion design... No, scherzo. Siccome siamo tutte un po' interessate a questo mondo, alla moda, ai trend, insomma, sono sempre aggiornate, oggi abbiamo detto perché non parlare di trend. In particolare trend di moda. Ovviamente non siamo qua per dettare lezioni di gusto. Anche perché per quello c'è un altro programma. Esatto. Assolutamente. Che è It's Radio Bitches. It's Radio Bitches. E poi perché, ripeto, e parto qua, chi sono io per giudicare? Certo. Questa sarà la premessa e l'epilogo della puntata. Esattamente. Esattamente. Allora, iniziamo subito con il trend. Allora, l'altro giorno, preparando questa puntata, mi sono messa a guardare un po' i trend della primavera-estate 2024 e sono andata sul dizionario di moda, a.k.a. Vogue, e ci ha dato un po' di, appunto, i vari trend, i vari inspo. E adesso io le leggo e le commenteremo un pochino all together. Quindi sono i trend che stanno arrivando. Che sono lì. Sono già qua, primavera-estate, anche se non sembra, siamo comunque maggio. Sì, piove, però sono 12 gradi. Esatto. Allora, primo, le trasparenze. L'effetto vedo-non-vedo è il segreto per sedurre. I vestiti citano il mondo della lingerie in modo esplicito ed audace. Che dire? Smash or pass? Io smasho. Comunque è uno smash. È uno di quegli smash un po' complessi perché siete medesimi, magari fai fatica. Io devo dire che amo il trasparente sugli altri. Perfetto. Su di me? No, io faccio un po' fatica. Cioè, secondo me, su un seno grande, oggettivamente, alla trasparenza la preferisco sul seno piccolo io. Ok, è questo. Perché c'è il rischio di essere, cioè, che non guardino a che bella maglia trasparente che hai. Ci può stare. Comunque non sono d'accordo, però il tuo punto di vista lo rispettiamo. Sì, poi io sono una che va mega a disagio, quindi è anche quello. E poi comunque, forse, effettivamente, con dute e tazze così, effettivamente non è proprio... Siccome è proprio visibilmente non è carino. Però, appunto, dipende. Dipende. Io sono molto pro al... Cioè, sto usando moltissime magliette tipo... Sono bellissime. Trasparenti, vedo non vedo. Le amo, tipo, ad esempio, che ho pensato l'altro giorno con l'unico modo per metterle. Un addosso sotto. È tipo anche quelle di pizzo con i dettagli. Sono fighe magari anche con una t-shirt sopra, così che hai... Layering. Sì, che la trasparenza non ce l'hai, perché non è più trasparente a quel punto. Hai la mano trasparente. Invece, secondo me, la cosa più figa è quando hai dei tatuaggi. È bellissime. Perché è trasparente col tatuaggio che viene fuori. È bellissimo. È molto bello. E per fortuna qua abbiamo tutti i tatuaggi. Esatto. E solo per quello li faccio. E anche le magliette tatuaggio, che sono quelle magliette talmente strette che sono color carne e poi hanno la stampa, la grafica sopra. Sopra, e ho una, io che quando la metti sembra che tu abbia solo la scritta senza maglietta. Ed è pure trasparente comunque. Esatto. E vabbè, quindi ci piacciono. E poi comunque è un'ottima cosa per essere un po' sexy anche. Sì, perché comunque basta quello e ti fa l'outfit. L'outfit, esatto. Questa cosa la diremo almeno 100 volte. Tutto è anche se per me è un passpartout. È un passpartout. Plastic nude. Il nude rivisitato in chiave contemporanea per un look diversamente sensuale. Nella vita possiamo tradurlo con abiti di paillette, tone su tone, vestito e pelle. Beh, il pellame comunque va molto. Allora, la discussione di Vogue è una discussione proprio terra a terra. Cioè, nel senso che... Sì, infatti. Intendiamo la cosa che avevi fatto tu prima, avevi fatto l'esempio. Avevo fatto l'esempio di Zendaya alla premiere di Dune. A parte che Zendaya comunque, untouchable. Esatto. O forse il suo stylist, untouchable. Sì. Ma tutto. Però quando... Un touchable per aver creato una donna così. Quando aveva una premiere di Dune, aveva questo abito nude, che era anche molto... plastico, non so se era la parola giusta, perché faceva un po' di strati. Era un po' tipo statuario, tipo sembrava una mezza... Cioè, che preneva le forme del corpo in maniera strana, un po' plastica. Sì. Molto bello. E quella roba lì mi piace. Io personalmente non ho ancora trovato un nude che mi faccia... Cioè, non ho mai provato una roba nude e pensato che bella che sono. Sì. Perché è difficile trovare il proprio nude. È vero. E poi vi dirò che queste cose un po' comunque particolari, che non trovo a tutte le parti, diciamo. Non sono da tutti i giorni. Esatto, e non so neanche quando trovarle. Perché io non sono ancora in quella fase della vita, perché non posso permettermelo di poter spendere tanto investiti. Tanto, tipo in un capo. Però sappiamo che questa fase arriverà. Arriverà, scusate, spero. Il primo stipendio. È il mio augurio, è il mio grande augurio. E quindi alcune cose un po' particolari, che so che metterò una volta ogni... Le finti di comprare. Non le compro, perché non posso permetterlo. Quindi non lo provate. Quello è un tema a cui non avevamo pensato, però è vero. Cioè, ci sono delle cose che sono tipo delle scarpe, che sono il quarantesimo paio di scarpe che ti puoi comprare, perché altrimenti lo usi una volta all'anno. Esatto. Comunque c'è anche questa foga di pensare sempre... Cioè, questo vizio. Dobbiamo noi di pensare sempre di avere l'armadio vuoto, quando oggettivamente non lo abbiamo. Ma quando poi andiamo a fare un acquisto, non prendiamo una cosa che la metti una volta per il discorso soldi, anche perché ti sembra comunque di avere l'armadio vuoto, quindi ti servono delle cose basic che metti sempre, che però non ti servono. È un po' tutto... Esatto, esattamente. Andiamo avanti. Rosso lacca. Tra tutti i colori di tendenza nella primavera e estate 2024, questo spicca, nonostante tutte le reclinazioni che abbiamo visto sfilare. Ecco, su questo io faccio un po' fatica. Il rosso è un colore che non... Ti dona? Dipende dal rosso, però non ho mai pensato il rosso è fuori moda. Cioè, è un evergreen. Però è tornato. È tornato. Il dettaglio rosso è tornato. E anche il rossetto rosso, secondo me. È stato un po' di tempo per cui non è vero. È tornato, secondo me, proprio il dettaglio rosso. Attaccio a Fred, mi viene da dire. Cioè, capito, l'outfit total black con rossetto rosso matchato alla scarpa rossa che è tutto black. Ma, cioè, io sono una grande fan. Tu sei una grande fan. Stringa rossa, cintura rossa e rossetto rosso. Una stringa rossa soltanto, spesso e volte. Ma le sono tutte e due. Esatto. Io sono fan tipo calzino rosso che matcha con il... Un po' da stronza questa cosa, sì. Sì, sono un po' stronza. Comunque, borsetta rossa che tra l'altro ora la mia si è rotta perché è quella di fatto a mucinetto di E. Io non riesco a uscire senza abbinare le cose. Cioè, io mi rendo conto che è una roba che probabilmente spero a un certo momento supererò. Però forse per organizzazione mentale ci deve essere sempre... Che ne so, se ho la scarpa nera, la giacca nera. Se ho il calzino giallo, la maglietta gialla. Cioè, sempre. Non riesco. Allora, lì, anch'io, ma lì a volte... E l'ho imparato dalla mia amica Nina, ma non perché Nina lo fa, ma perché Nina me lo disse. Nina, no, perché io un po', siccome è un po' virgo vai, anche un po' il fatto che... Io, ad esempio, anche vado un po' ai sbatti se non posso permettermelo perché non ho l'intimo tutti i matchati. Però comunque se ho l'intimo, il sopra bianco e il sottonero, mi sento un po' risordinata. Ma quello è un problema mio. Giuventino, gobba di merda. Comunque, tipo, effettivamente anch'io c'ho sta cosa, però a volte il match di colore che non c'entra niente... È forzato. No, ma anche proprio il match di colore, lo so, l'arancione col blu, che ho detto, è quello che sta bene insieme, però... Sì, sì, sì. A volte che dici, oddio, non sta per niente bene, in realtà è fighissimo. Esatto, mi scusa proprio questo che volevo fare, che è proprio iniziare a... Io mi sono resa conto che diventi più maturo a livello proprio di gusto e di occhi. Allora io faccio questi discorsi perché sono cresciuta in una famiglia di... Persone che ci tengono. Esatto, che ci tengono e sono molto così, coi colori anche, soprattutto. Che diventi un po' grande di gusto quando ti inizi a capire che non è che coi colori forti puoi metterci solo il nero o il blu, neanche il nero e basta. E non è che tipo, se metto arancione non posso abbiarci nessun altro colore, non è che se metto il giallo non posso abbiarci nessun altro colore. Che comunque i colori stanno molto bene insieme. È difficile oggettivamente perché è un po' un osare. O comunque fare una roba un po'... Sì, anche un outfit basic con colori strani è comunque difficile da portare. Esatto. Innanzitutto, anche questo tema dell'arbocromia che io ho scoperto. Però raga, è verissima questa cosa. Cioè io, ci sono dei colori che d'inverno non... D'estate posso mettere tutto. D'inverno non posso mettere. Quindi seppure metto tre colori di cui metto il blu sopra e poi sotto metto l'arancione che mi sta malissimo, il rosa, è così male. Quindi bisogna anche capire che colori ti valorizzano. Non è che devi mettere l'arbocromia però comunque provare a usare un pochino. Sì. Perfetto. Andiamo avanti. Doppia cintura. Non solo accessorio funzionale ma elemento decor. Che quest'anno vedremo un po' ovunque. Cintura bassa, a laccio o a catena ma sempre doppia. Sempre doppia. Ci spingiamo così rigidi. No, infatti. Non mi piace. Non hanno quelle modi inutili. Vorrei fare delle citazioni. Sì. Posso fare? Le... Oddio. Le nostre amiche di Cilè sono grandi fan della doppia cintura. L'hanno fatte adesso. Cilè è un brand delle nostre amiche finissime, andate a vederlo. E lo fanno tantissimo. A me piace. Sì. Però rientra in quel trend che dico... Non è il mio. Ma neanche non è il mio. Cioè... Fai tu il commento che sono d'accordo con te. Cioè che è un po'... È quella tipica cosa per cui fa moda ma realmente non ha... Cioè solo perché è di moda ma se non fosse di moda nessuno lo farebbe perché non avrebbe così tanto senso e non è così esteticamente bello. Però è un po' quella roba che va di moda quindi la gente si gasa e lo fa. Ma esteticamente è anche un po' rocchettaro. Però la domanda che vi faccio è l'accessorio tipo la cintura che oggettivamente è un accessorio che ha una funzione. Io a volte la metto come accessorio e basta. Penso che lo facciano tutti. Sì. Ok. Tu a rischio non la metto mai come accessorio. Tipo su un vestito non metto una cintura. Ok. Però tipo su dei pantaloni a volte mi rendo conto che proprio... Ah certo. C'è la cintura. Ma quello anche per la mia mente perché se ho la scarpa nera almeno c'ho la cintura nera. Cioè se no non hanno alcuni segni. E io ho sempre cintura rossa. Capricorno. Sai che faccio quella che io non so un cazzo di segni ogni volta che segno sei. Però secondo me la cintura è un po' una estremizzazione della cintura chunky anni 2000. Cioè hanno tipo fatto uno step più in là della cintura ripresa dagli anni 2000. Vabbè, vabbè. Che aveva sempre una fibbia grande. Preferisco quella anni 2000 che non sapevo fosse anni 2000. Preferisco io una cinturona importante con una bella fibbia. E tu ne hai di belle comunque. Perché mia mamma ne ha tantissime e mio nonno ne aveva tantissime le date a noi. Io ho dovuto fare 200 buchi. Proprio con queste fibione grandi metallizzate li preferisco. La doppia cintura non soltanto non mi convince fino in fondo ma è pure scomoda forse. Non lo so chiederemo alle ragazze di Cilè di rispondere. Sì perché tipo su Carli stan bene a me piacciono su Carli. Sì. Io mi scomoda no però perché punto di domanda lo lasciamo lì. Letas no. Esatto. Ah qua vabbè. I pantaloni a Pinocchietto arrivava al più inatteso perché è considerato difficile indossare vedi te. Eppure negli anni 2000 era un capo indispensabile per essere considerati fashion. In ogni caso noi prendiamo nota i pantaloni a Pinocchietto sono tornati di moda e questo è... Parla tu. Parla tu ti prego. Io sono assolutamente fan. Non ne ho nessuno attualmente però non nego che tra le mie ricerche vinte ci sono. Amore però scusami. Eh lo so lo so lo stai per dire. È molto suo però. E poi amore lei c'ha la gamba che mi arriva qua. Eh ma pietà per le gambe corte. Sì metti i pantaloni a Pinocchietto. È quello. Mi lascio immaginare. È quello. Dipende dalla fissiccia. No ma no Allora a parte che non ha le gambe corte Nina. Non è vero. Non è altissima però non ha le gambe corte. Quindi comunque sarebbe secondo me graziosa. Però secondo me fa parte tutto del look cioè ci vuole la ballerina oppure il nul. Esattamente comunque le hai messi. Mi ricordo un tuo outfit totale black. Erano dei pantaloni e le ho girate. Sì erano dei pantaloni corti ti si vedeva tutta la caviglia tu hai bisogna avere anche una bella caviglia comunque Pura le caviglie dobbiamo pensare adesso Pura le caviglie bisogna avere una bella caviglia La caviglia bisogna avere una bella caviglia avevi delle ballerine Avevo delle belle caviglie quel giorno Avevo delle belle caviglie quel giorno sicuramente Sì avevo le ballerine Io non me le metto ma devo dire che anche lì a volte mi piacciono fanno molto sono abbastanza eleganti Sì beh quel giorno devi volerti sentire una ragazza carina Sì sono molto è quel mood è quel mood che a me spesso piace quindi su di te Ma te potrebbero stare bene? Anche secondo me Eh tipo poi non lo metto perché sono ancora lì lì che dico la faccio questa cosa che poi mi dicono amo hai l'acqua in casa No vabbè quella lava lì però sinceramente non può toccare E poi è passata che era poi dell'acqua in casa Vabbè ci proverò Allora lo slip dress di pizzo l'iconico abito è sotto veste che ha dominato le tendenze dell'ultimo decennio ora trovo una nuova veste ancora più raffinata ancora più sensuale è la declinazione pizzo che dona un tocco charmant al look faccio fatica col pizzo faccio fatica col pizzo io forse non sono abbastanza una ragazza carina per mettere il pizzo ma invece secondo te potrebbe stare molto bene ma il pizzo anche dress eh non lo so non lo so è tanto è tanto ti immagino una roba tipo proprio lingerie con seta col pizzo intorno no si però è tanto cioè giallo sul dress dettaglio di pizzo su una cosa di seta o tutto pizzo cambia non lo so il vestito faccio fatica certi toppettini ce li ho col pizzo però tipo per andare a ballare cioè non è il mio capito ok a me il pizzo piace eh di dettaglio ok ci sta non mi piace il total pizzo anche perché ce ne sono non è che non mi piace è che a volte allora tipo il pizzo bianco fa suora cadavere o sposa o sposa suora cadavere eh sbatti suora cadavere suora cadavere eh vero un po' soprattutto se hai d'inverno un po' complesso ah beh sì anche quello un po' Zara l'ha fatto recentemente ma io ho una maletta che ti ho messo un botto mia di pizzo bianco molto bella verità verità è l'unico mio post che ho su vista con la maletta bella però avevo comunque sotto il reggiseno a fascia oro che mi dava quel tocco di classe quella roba là l'oro è classe il top oro comunque ci vediamo da te con l'insulto sotto mi ero messa con giz capito una roba che sdrammatizza siamo anche montironi che volevo dirvelo perché veramente io sto chiedendo della farinata cortesia ok perfetto andiamo avanti stile grand pa io sono molto smash perché questa è del pa non del grand pa però comunque il discorso è un po' quello smash se la moda delle sciure si manifesta con i coordinati di maglia nelle tonalità accese tra le tendenze del 2024 sta dilagando lo stile grampa il pezzo simbolo è proprio la giacca over e utility che abbiamo sempre visto indossa ai nonni e ora non ha età molto vero nonni e papà secondo me nonno io ho molte cose di papà tipo giaccone del papà i pantaloni anche ormai gilet il camicione questo carino il papà questo si collega al trend over ovviamente la roba del papà fa vintage vintage e poi è anche una roba che appunto ti sta grande quindi è figa e poi io anche molto perché lui ha delle cose oggettivamente molto belle anche di qualità e quindi purtroppo mio papà non è una persona che cede volentieri infatti a volte veramente mi capita più di rubare a mio papà che a mia mamma perché mia mamma me le dà le cose mio papà cioè oggi l'ho chiamato dicendo una giacca raga ve lo giuro era da pioggia perché era da pioggia non poteva l'ho chiamato e lui si è inventato una scusa dicendo no quella non è da pioggia per non farmela prendere quindi ho chiesto papà ma hai una giacca da pioggia almeno lui fa no la proprio non ce li ho raga vi lo giuro una raduce ma sai che invece mio papà è molto molto tenero per stare ciao papi comunque ti amo un botto e ti dirò è molto attento ma molto l'altro giorno ho messo questa camicia senza chiederglielo perché avevo un po' litigato per non riuscire quindi poi la metto prelevo cosetto così nel caso se mi sglamasse aumenta la litigata no però mando una foto a caso che si vede solo il collo e fa quella camicia è la mia camicia la doppia da gemelli faccio addio sì non la metto da un sacco sta bene così tutto quello che metto quella è la mia cosa che metto con il collo e anche i nominativi del collo molto interessato noi abbiamo riciclato due giacche di pelle importanti dai nostri papà tu hai quella il giorno quella che metto meno ma quella avete presente con le righe sì cioè nera molto più e marrone sì molto bella quindi sì grazie papà scusami e poi ultima una giacca chancrata vabbè dopo anni di modelli over maschili le giacche della primavera estate 2024 tornano ad essere asciutti dalla siluetta clessidra adesso vado un po' veloce che così io non ci devo no sì sapete io cosa sto cercando faccio brevissimo una camicia ditemi dove posso comprare perché a volte avete presente quell'outfit che pensi proprio io non ce l'ho quella roba lì una camicia che qua effettiva che è un po' chancrata non ho giacca chancrata una camicia che qua comunque mi fa la forma non una camicia over io ho soltanto camicie comunque larghe è vero proviamo il vintage sì un po' più ero usato poi vabbè l'ortofrutta che per me era veramente inguardabile fancy divertente quindi la collezione alla frutta di S-Clothing non ti viagge no per niente e il tema frutta e verdura ritorna sotto forma di stampo ora dovrei scegliere solo il tema preferito perfetto vabbè la camicia la lasciata aperta vero comunque camicia magari sotto qualcosa così i nuovi corsetti e l'effetto balloon allora sul corsetto c'è corsetto e corsetto secondo me perché il corsetto Urban Outfitters ha rotto le palle c'è un po' dato il corsetto mamma mia è tanto secondo me il corsetto deve essere avere un look non per forza vintage però di qualità perché ce ne sono veramente di terribili con il look un po' satinato brutto se c'è anche il look adesso ho visto molti più corsetti tipo io ho visto brutti però in realtà alcune nostre amiche ce li hanno e mi ricordo dei look che dicevo ci stanno quindi dipende in realtà adesso vanno molto ho visto che mi capitano su Instagram delle pubblicità non quelli di satinati un po' di bellina sintetica ovviamente I don't smash at all proprio I smash come si consa ma proprio un pass pesante ma è messi e poi una cosa che detesto e spero che nessuno si offenda è quando una ragazza mette un corsetto corpetto come cazzo si dice di sette taglie più piccolo che fa non so l'epoca storica a me fa molto l'epoca del costume capitato 800 le donne si vede si vede che studia perché è la moda si parla di moda dopo la seconda rivoluzione industriale prima la seconda rivoluzione industriale si parla di costume perfetto esatto va bene quindi andiamo avanti ok no abbiamo fatto i nostri trend del 2024 ce ne sono altri da aggiungere ma vedremo esatto però poi così ci sono altri temi importanti riguardo ai trend e le mode secondo me è la questione TikTok è un grande tema perché parlando appunto pensavamo di quanto innanzitutto TikTok nella nostra generazione sia la nostra fonte di ispirazione e di confronto confronto esatto anche ricerca tipo di outfit di tipi di persone non so proprio la nostra fonte di ispirazione esatto e anche per chi nasce ora tipo small business o comunque chi deve emergere nel mondo della moda utilizza TikTok come in realtà non solo moda in tutti i mondi ormai però moda un sacco col trend del fit check che è diventata proprio un'icona 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 però quella rava lì ti porta è l'unico mezzo diciamo di pubblicità o comunque il mezzo più efficace sì e lo vediamo grazie alla nostra sorella Benetta Mamidioli che ha creato uno small business e Carolina Rossi un ottimo lavoro culotte Milano seguitelo molto bello allora trend dei fit check forse trend preferito della vita tra l'altro lo vorrei fare ma perché sono tutte mie amiche conoscenti che so che non si offenderanno ma mi fa morire che hanno tutte cioè tutti i small business di mie amiche e conoscenti che conosco e seguo volentieri anche fanno dei fit check raga che io vado fuori allora Carli di Scile ciao a tutti ragazzi ragazzi oggi outfit molto easy e la vedi raga solo per una domenica veloce con amici e la vedi con questa veste di pizzo lunga col jeans che va sotto e lo stivale appunto e lo stivale tipo anche oppure quello chunky che ha lei mega tipo con tutte le borche le robe vabbè ti amo te lo giuro e vanno molto i fit check raga vanno moltissimo per sponsorizzare il brand proprio ci sta comunque funziona da morire e anche perché ormai talk raga è diventato quella roba per cui ovviamente tutto è di istinto in ormai o fit check o video divertenti praticamente o video sentimentali o manifesting però questo è comunque la nostra for you page da signorine è vero però oggettivamente la maggior parte delle persone non è vero molte persone fanno comunque il fit check in vari modi diversi che sia parlato o non parlato però fanno vedere come sono vestiti oggettivamente a quello e quindi infatti si è creato lo stile tiktok molte volte vedo le ragazze e dico per me si vede che segui tiktok io faccio un po' il ragionamento lì che è triste poi secondo me al tempo stesso lo faccio anch'io nel senso che io tante cose anche è triste secondo me beh la velocità con cui le cose entrano escono sicuramente cioè senza filosofeggiare però mi rendo conto che secondo me prima di tiktok una certa roba mi stufava in un anno adesso appena percepisco che gli altri lo seguono vedendo tiktok non mi piace ma sapete anche perché perché quando entra in quel loop lì diventa veramente troppo utilizzata no esatto bisogna essere ma infatti bisogna essere in grado di effettivamente captare delle cose che funzionano per te per il tuo stile dire ok questa cosa mi piace e quindi essere influenzata da quella cosa lì quando la tristezza ovviamente esagerata la intendevo quando vedi un total look che dici cacchio ti sei messa la minigonna stile miu miu con le adidas samba e la t-shirt con il calice qua tipo di martini oppure delle style strane sulla maglia allora dico bella sei bella so che dietro non c'è però una ricerca di look quindi ti dico stai bene ma non direi che sei stilosa questo sto dicendo è un po' anche cercare di equilibrare le influenze secondo me sì perché poi appunto c'è anche tutto il discorso del personalità non personalità capire quando una cosa viene perché piace agli altri quindi di conseguenza piace anche a te o perché è davvero una cosa che a te potrebbe piacere come il discorso che facevi tu su ballerine se non fossero nate in moda non mi sarebbero mai piaciute ma mi sarebbe venuta in mente di metterle le vedo su tutti e le vedo su tiktok di qua ma fate forse le voglio anzi le amo sì per me il discorso analogo ma opposto sono tipo le special cioè è stato talmente veloce il fatto che ce le avessero tutte che io non me le sono prese è vero mentre le ballerine comunque rimangono cioè comunque rimangono non tutti ce le hanno non tutti ce le hanno sì è vero però allora secondo me tipo moda samba moda adidas è una moda che rispetto alle altre ma secondo me per il prodotto in sé cacchio sta durando raga dal 2020 che ci sono cioè lo scoppio dell'adidas samba però quella è la roba sta durando ed è comunque ancora di moda però ad esempio quella roba lì per me è una hit perché per quanto anch'io noti che c'erano tutti mi girano le palle perché c'erano tutti poi è una roba che io la vedo anche strasso di me quindi me la compro e me ne frego perché poi dipende tutto come le vesti le cose ma poi sono belle comunque esatto c'è la roba che oggettivamente è una scarpa che è geniale perché l'hanno declinata in mille salse diverse puoi usarla per un outfit carino e tenero per un outfit un po' più stritto per un outfit cioè qualsiasi cosa puoi usarle uomini e donne tutti oggettivamente e poi tutto può essere uomini e donne però quello è tanto declinabile c'è tutto no vabbè e poi è una scarpa veramente versatilissima forse la roba della samba che adesso è stata anche e a me quel look ad esempio mi piace molto la samba sul look non sportivo la samba con un vestito devi essere alta due metri a me piace su quelle alte due metri perché comunque la samba è una scarpa piatta quindi comunque non ti alza quindi anche lì però a me piace da morire mi ricordo in Puglia avevamo visto questa ragazza non so perché ma mi è rimasta in mente che aveva questo vestito tutto tra l'altro tipo mezza pellina quelle cose tipo sintetiche che hanno fatto anche la Zara lungo tutto lungo molto bello samba tipo arancione vabbè era alta 6 metri cioè era veramente però quella è una roba molto figa molto figa sì no basta allora sta roba del gusto è un tema nel senso che voi ad esempio pensate di avere effettivamente uno stile vostro originale siate sincere perché io so la risposta non lo so io credo di sì nel senso che e poi me ne rendo conto parlando con le altre persone no cioè tipo questa è una roba da te quando ti dicono questo outfit è da te e magari tu pensi tutti se lo mettono invece non è vero però secondo me il mio stile c'è una costante però si evolve nel tempo rimane qualcosa di definito e è molto condizionato da quanto mi sento bene con me stessa in quel momento perché comunque cambia tanto quanto dove sto andando non nel senso che vado a ballare o vado a casa ma con chi sono e poi cos'altro può essere secondo me anche con chi sono cioè nel senso io mi rendo conto che sono con alcune persone a meno che io non sono con i miei amici di una vita che mi hanno visto in tutte le salse quindi a quel punto vale tutto in alcune dinamiche purtroppo non ho la sicurezza per dire vado vestita come cavolo mi pare faccio la no che comunque purtroppo ma cerco un po' di allinearmi col posto in cui sto andando che a volte è anche giusto perché ci sta se hanno intervinto luogo mi vesto completamente fuori luogo è strano però anche un po' ah ma a loro cosa potrebbe piacere oppure se vengo così magari mi guardo e mi dico ma che cazzo c'è addosso sì quello è vero nel senso che a volte a volte tipo penso adesso metto un outfit molto più particolare del solito perché sono in determinato ambiente oppure metto un outfit più basic del solito difficile ma perché sono un altro determinato ambiente però ad esempio questa è una roba molto figa che secondo me in realtà non ha nessuno cioè non lo so se ce l'avete anche voi io a volte vorrei overdress cioè vorrei vestirmi in maniera cioè ci penso di più quando sono con le mie amiche un bot cioè a me piace essere vista bene quando sono con le mie amiche certo beh a parte che i complimenti arrivano cioè a parte che i complimenti derivano quasi solo dalle tue amiche quindi se deve esserci qualcuno per vestirsi bene esatto e poi è vero anche in ambienti così però a volte l'angoscia anche di dire vorrei tentare di più ma non riesco in determinati ambienti mi blocca e quindi preferisco avere in quegli ambienti lì a volte un outfit tipo safe piuttosto che con le mie amiche in cui invece a volte dico vabbè oggi la tento poi se piace a loro la metto anche in un contesto del genere sì esatto e poi anche il discorso di quanto più risultare come sei vestita perché poi noi stiamo parlando così tanto dando così tanto valore vestiti poi magari qualcuno cioè può essere e ci sta sicuramente questo dimostra che purtroppo ci ragioniamo veramente troppo tanto troppo comunque anche no ma e poi comunque raga a volte mi sono cioè mi sono resa conto di come ho pensato ore e ore perché tutti sappiamo che ci sono ore e ore che a volte ti viene nervoso che hai tutta la mucchia di vestiti sul letto e dici vabbè ma tutto cioè va giusto bene e arrivi in serata e se c'è un commento positivo se c'è è all'inizio tutta la serata raga ma ma che cioè nessuno ti guarda come sei vestito ma raga ma nessuno ma infatti non so se l'avete notato ma anche qua quando stiamo a fare serata ma anche quando stai a ballare cioè la roba è l'ingresso cioè la roba assurda è che tu ti vesti per i primi cinque minuti che sei in quella fottuta non ci avevo mai pensato a questa cosa in quel fottuto evento eh no è vero perché ma io banalmente io non sto entrata ho guardato come eri vestita subito e ti dico subito wow oppure che merda sì dopo cinque minuti dipende in quello che stanno vado a ballare nessuno mi guarda perché è tutto buio però io c'è un sacco di ragazze che pensano ore e ore come andare a vestita a ballare infatti adesso adoro la moda del dire vaga jeans e maglietta vai a ballare io parlo molto più di situazioni generali cioè vado in un aperitivo vado in un bar vado in una cena sono d'accordo con te però a volte però non puoi non essere d'accordo nel dire che magari la roba di cinque minuti è esagerata anche se secondo me è vera però raga oggettivamente cioè io di outfit fighi che attualmente mi ricordo di gente che non conosco che ho visto una serata me ne ricordo forse tre ed è assurdo cioè quella ragazza magari cioè quel momento penso anche oddio sei figa cioè come sei vestita bene uno non glielo vado a dire lei non lo saprà mai quindi è un commento che faccio a me stessa che poi va all'aria il giorno dopo non mi ricordo mai come è vestita raga mai io lo faccio tanto per me adesso sembra entro un discorso da stronza quello è un botto io lo faccio un botto per me cioè io sono tanti giorni mattina in cui mi diseglie dico oggi sono sicura di me stessa sono gasata c'è bel tempo non so giornata bella positiva e quindi voglio estermi bene e lo faccio tanto per me perché io ho questo problema per cui evidentemente no non evidentemente comunque la moda è comunicazione è comunicazione di come siamo perché alla fine tu ti poni e prima di parlare quello che vedo le persone è come sei vestito malissimo è come sei vestito se mi vedo in un certo modo cioè io ho bisogno in certi giorni di comunicare quel tipo di cosa di me che sia un giorno in cui sono un po' più zarra un giorno in cui sono un po' più radical un giorno in cui sono un po' più scecchettina carina un giorno in cui sono sciatta non frega niente un giorno in cui sono basic va bene così però fa parte di me e il giorno in cui e quando io non sono come penso il mio pensiero e la personalità non rispetta quello che sto cercando di comunicare va di sbatti quindi è una roba che faccio un botto per me perché do un botto di peso non che deve essere perfetto ma che deve rispecchiare quello che sento io non è che poi e poi non ho niente di chissà cosa cioè probabilmente sarà jeans e maglietta camicia o una giacca particolare niente di che però è un po' quello cioè tanto quanto tu come persona il peso che dai a quello che stai indossando secondo me vuoi dire qualcosa? voglio chiedervi voi secondo voi come chiameresti il vostro stile? difficile assurdo come cioè sono due domande diverse tipo come chiami il tuo stile? come vorresti che il tuo stile? no no secondo me com'è cioè perché io vorrei essere due creviz però non lo sono allora io devo omettere a me stessa che rispondi prima tu no non lo so io allora io non posso definire il mio stile ma non perché il mio stile sia indefinibile perché il mio stile cade a volte nel basic ma è un motivo principale c'è un motivo fondamentale che però è vero il motivo fondamentale è che la cosa assurda per me è che ci sono delle cose che io non mi metto per delle mie insicurezze ma che a livello di gusto di piacere mi piacciono su di me tipo comunque la mia insicurezza fisica e anche caratteriale perché ci vuole personalità per mettere determinate cose non mi permette di andare oltre a quella cosa lì quindi se io devo definire il mio stile adesso lo definisco uno stile basic a volte un po' tipo francese basic fino a un certo punto cioè basic con delle cose comunque di un certo tipo cioè le scarpe le mie queste qua che ho fatto sembrano scarpe basic comunque quindi c'è sempre il dettaglio aggiuntivo quindi lo definirei così però French basic comunque secondo me è la giusta definizione French basic sono abbastanza le righe tu a Parigi staresti ad io proprio ma ci alzeresti a pezello però al tempo stesso il mio stile mentale cioè quello che realmente mi appartiene è così con delle cioè devo usare di più ad esempio io non metto vestiti lunghi cioè i vestiti proprio i vestiti che li amo io non metto io sono nuda io sono nuda capito molto perciò proprio senza niente no però è vero cioè io non metto i vestiti che sono li amo un botto ma non li metto perché sono un po' insicura quindi sì French basic con un twist futuro un twist futuro che spero di avere perché comunque a livello di gusto sono io secondo me ecco il mio stile mi rappresenta ora come ora al 55% 60 dai 60 massimo però c'è un 40% che proprio mettere comunque vai forti anche se grazie vai forti non ti preoccupare io non ho idea raga tu? se vuoi prova a definire il tuo secondo me cioè dirlo così sembra negativo però tu hai uno stile da milanese sì non nel modo negativo perché secondo me almeno io nella mia testa se penso come si veste da milanese è una roba brutta invece tu ti vesti da milanese bene perché comunque hai solo cioè quasi solo roba bella non hai mai capi di cattiva qualità tu praticamente e comunque sempre con molta cura e questo vuol dire che ti puoi vestire con le silver e il pantalone largo che comunque fa Milano è vero ti puoi vestire con la camicia e la giacca che fa Milano le friulane il mocassino sono tutte cose molto da Milano è vero tu hai delle cose molto milanesi il tuo stile non è ben definito ma perché tu hai uno stile abbastanza variabile anche come dicevo prima io vado veramente giornate cioè il giorno in cui metto a fare pella perché sono poi senti un po' la zara della situazione che non sono e il giorno in cui metto la camicettina bianca e la giacchettina posso dire quello che ti rappresenta di più lo stile zarro è quello che ti rappresenta di meno ma a volte funzioni con lo stile zarro quindi cioè stai bene tu con lo stile zarro che poi zarro immaginatevi nina zarra non è che si mette la tuta limitato è molto limitato però a volte comunque un zarro chic la tendi la zarrata del momento ce l'hai però è sempre con magari la silver col pantalone del velluto te la sei messa è successo arancione è successo anche questo è successo anche questo quindi è uno stile molto variabile è vero tu vari molto a secondare la tua personalità proprio lo stile varia a seconda di come ti svegli diciamo che è un botto di personalità infatti sei bilancio tutto torna come definiamo lo stile di bianca bianca io ce l'ho ma ce l'ho nella testa non ce l'ho la parole beh Zoe Kravitz però è molto vero sì allora Zoe Kravitz è molto vera è vera ce l'ho come reference molto anche lì lo stile di bianca varia a volte ti direi uno stile oddio raga ho paura di usare dei termini sbagliati mi viene dire old school ma non è old school però a te la camicia così te la vedo un botto di volte quindi non so se sia old school però un po' scolaretta a volte ci sei l'occhiale quello che ti ha regalato Harry miu miu funziona anche un po' street street a volte ecco a volte mi schia anche la scarpa street con camicia e golf con la camicia che esce fai tutto misto non so spiegare parole però è così in pratica stilosa no sei molto stilosa ecco uno stile che ad esempio sta bene quasi solo a te guarda che di te non siamo tanto distanti come stile su certe cose sono cose simili insomma sei molto street street bello street chic un po' street alla sì c'è uno street più raffinato uno street un po' nordica un po' mamma certe volte io mi sento che mi si vesto tanto da mamma tipo la camicia senza maniche quella roba lì oppure con la gonna anche sotto il ginocchio oppure il pantalone a pinocchietto il pantalone a pinocchietto quel giorno ero vestita da mamma una mamma carina ecco una mamma chic una mamma stilosa sì è vero beh allora se doveste dire un outfit che vi ricordate che hai detto proprio ma come sta bene oggi ce l'avete di ognuna di noi sicuramente allora faccio fatichissima sicuramente io se penso a te in un'occasione allora mi ricordo te al mare con la gonna pantalone e lo stivale e non ricordo sopra cosa una camicia forse quella gonna pantalone che vivi ed eri molto bella però non è tipo il look più bello di viola cioè secondo me capito un giorno in cui tu forse ti ho detto sette volte perché non riuscivo a non dirtelo quando la felpa bianca dell'IDAS gelata con gli occhiali e lentiggini per me sei da morire sì sei divina a me piace anche tantissimo con quella giacca di pelle marrone che però la chiudi sì è cappuccio i capelli sciolti i capelli sciolti ma anche a volte legati con un sacco di lentiggini sei lì sei bellissimissima grazie a Nina adesso mi uccide raga mi ammazza mi ammazza però è vero però non giuro Nina perché non lo metti mai tu quel look lì però è un look che è talmente un evergreen e comunque raga oggettivamente io non voglio fare la basic bitch però a volte se sei bella la maglietta bianca con un jeans è meglio di qualsiasi altra cosa per quanto mi riguarda e questo è il caso di Nina e questo è il caso di Nina che esatto che è abbastanza hoc no però è vero quello che dico io è che la metti talmente poco quella cosa lì che ti giuro che quando ti vedo ti esalta talmente tanto il viso e anche il fisico perché oggettivamente avendo tu un bel fisico ti metti una maglietta che ti dona sul sopra ti metti un pantalone che ti dona sul sotto jeans e maglietta bianca per me sei più buona dell'universo cioè ma io ti giuro che le volte in cui ho pensato oddio che bella è una bella pancia se ti viene fuori la pancia è molto bella io l'ho pensato lì quel look lì forse perché lo metti poco però comunque sempre metti bianca hai tutti i giorni metti bianca quel look però basic basic con un mocassino il jeans proprio fit il classico jeans levis 501 e una maglietta bianca te lo vedo poco bello e per me è la cosa non dico che ti valorizza di più però essendo tu molto bella è quello che valorizza sicuramente più tutte noi tre però su di te io è il look che ho sempre oppure a volte metti anche d'inverno verso l'invernale con il golfino blu che esce il bianco a me piace molto ah è vero bello ti dona molto è l'attenzione per il dettaglio quella lì ti dona moltissimo invece Viola io anche a te ti penso molto col maione con la camicia che sbuca e le trecce ah la treccia anche col cappello mi piace molto ah si è vero col cappello a visiera così e poi comunque se posso permettermi di dire una parola che forse è da mannare con la sigaretta ah vabbè è vero anche a me l'ha detto il giorno dopo non lo basta che un giorno in questo video con il top così a collo alto e di pantaloni a palazzo andà di ore bellissima è abbronzata ma that's fine il mio outfit migliore è da abbronzata certo comunque in generale la questione è che ci sono delle cose perché io vedo su alcune persone che dico cazzo non mi metterei mai però oggettivamente da testa molto bene perché fanno parte della tua personalità del tuo gusto e altre che dico proprio non funzionano e quindi vai un attimo capito quando è che uno ha gusto quando è che ha personalità però io ho un botto anche di core non so influencer che seguo che dico cavolo e poi c'è un sacco come ti vesti le robe che metti però io magari non le metterai mai perché magari sono troppo adulta perché magari non mi rappresentano però sono molto fighe oppure se le metto mi rendo conto che non mi sento a minaccio con quella roba lì quindi poi non sono nemmeno io troppo spigliata perché non mi sento che sto comunicando bene così la mia persona però dipende un botto io ho tante amiche che dico cavolo te questa cosa sarà dio io non la metterei mai mai sì vero la roba è lì che dicevo anche prima prima della puntata che vi dicevo che secondo me a volte essendoci adesso molto meno l'insegnamento del gusto personale e io stessa mi metto in mezzo il gusto a volte retrocede davanti a una persona con tanta personalità che mette una cosa magari oggettivamente anche di cattivo gusto ma che con personalità le dona beh sì ci sta questo ragionamento e secondo me calza pennello con il discorso un po' vinte dei tiktok sì certo perché comunque gli orizzonti di cose con cui entriamo in contatto sono molti di più quindi cerchi degli accessori un po' strani un po' cianchi che magari hai visto un pochino simili però li trovi diversi perché li trovi su vinted e quindi vai sempre più là eh sì è quella la roba detto ciò sì cioè a volte sì cosa che aveva detto prima tu Rock & Fioc che tra l'altro ti prego vieni qua per una puntata ora Rock & Fioc ha uno stile molto elegant chic 1010 studio sì vabbè l'altro mondo l'epoca 1010 studio altro small business da guardare che raga andata a vedere dalla nostra amica Emilia 1010 studio Olivia Gino e Emilia Sofri esattamente no appunto lei ha uno stile che a me piace molto perché su di lei funziona lei è una personalità fortissima rivendica anche molto il suo stile e rivendicare a volte lo stile fa sì che le persone comuni quali noi siamo comprendiamo lo stile in quanto forse sei tu che capisci cioè io non capisco niente se tu rivendichi così tanto il tuo stile vuol dire che hai qualcosa da dire reale sul tuo stile è un discorso un po' complesso no però è vero raga se una venisse no però se una venisse vestita non male ma una roba che dico no se tu cioè se tu hai tanta personalità e mi dici guarda guarda come lo metto e lo rivendichi e mi fai anche un'analisi dietro quella roba lì io finirò non avendo un insegnamento del gusto che è un limite fino a un certo punto imparo ad amarla ma è lo stesso discorso delle ballerine ma io ho capito che è che intendi cioè bisogna capire chi è che è realmente a gusto una rock in fiocche che rivendica tanto il suo sapere sulla moda il fatto così a lei sta bene quella roba lì mi convince perché dico cazzo su di te funziona perché la tua personalità funziona di brutto io sono molto dell'idea e probabilmente è un po' nazista come pensiero che lo stile sia dentro di noi cioè una persona che ha stile o una persona che non ha stile di conseguenza io non so se questa cosa allora fa sì che io veda qualcuno versirsi bene una volta due volte tre volte quindi di conseguenza poi mi fido che anche se fa una roba un po' incasinata è stilosa quella roba lì cioè non so se è perché mi sono abituata e quindi di conseguenza quella persona passa l'esame però invece io credo che ci siano delle persone che anche lo stesso discorso del basic maglietta e jeans siccome tu c'hai lo stile dentro lo stai facendo nel modo giusto ed è stilosa quella roba lì sì è vero è verissima sta cosa poi nel senso noi stiamo intendendo a volte cioè a volte sbagliamo di intendere lo stile come se fosse una roba tipo monotematica cioè l'emo è uno stile poi non può piacerti non si esatto però lo stile emo è uno stile quindi può non piacere lo stile rocchettaro ma c'è duemila stili no ci può anche non piacere però effettivamente è uno stile quindi bisogna dividere questa è un po' una roba veramente di odore a submediate etimologia di parole però oggettivamente lo stile è una cosa credo mentre il gusto è un'altra quindi uno stile può non essere di tuo gusto però è oggettivamente stile lo stile non è oggettivo no però hai stile o non hai stile e non è ovviamente per tutti secondo me è un giudizio che puoi fare se hai stile però per me magari una persona che ha stile non è la stessa persona che per viola stile cioè quindi una cosa molto oggettiva poi che tu segua più che uno stile secondo me si parla di un'estetica un'estetica una cultura un pensiero che poi si trasmette anche in cultura cioè anche in vestiti comunque sono anche molte subculture gruppi di persone che si uniscono e fanno e diventano e per rappresentarsi si veste in un certo modo comunque cioè io quando dico quella persona per me ha stile non è che intendo che sia uno stile definito poi magari a livello etimologico è sbagliato però quello che intendo io è si veste in un modo che anche se non mi rappresento o anche che mi rappresenti comunque è interessante mi potrebbe piacere poi sicuramente quello che ha lo stile non so emo che cazzo non so avrà suo stile ma magari non lo definisco con un stile perché non mi piace cioè non so come spiegartelo vabbè ho capito ma infatti mi sono focalizzata su delle parole un po' così un po' così allora facciamo un gioco spiegano Bianca allora sono due giochi che possiamo fare quello che ci sono due giudizi diversi giusto ok allora il gioco si chiama underrated versus overrated che dall'inglese vuol dire sottovalutato o sopravvalutato quindi parleremo di certi trend di certi accessori capi così che sono comunque abbastanza attuali e vedremo guarda Instagram al tic e ognuno di noi dirà se secondo noi è overrated underrated o magari giustamente rated ah come è che si dice right rated non so Livio lo fa sempre no no non credo Livio lo fa sempre però effettivamente c'è sta stabile cioè giusto valutato il giusto giusto allora vai gonna sopra il pantalone overrated da morire per me io ci ho provato delle volte non ci sono mai riuscita quindi per me è giustamente rated ma è over ok preferisco la gonna corta su un pantalone lungo che una gonna lunga su un pantalone corto io preferisco la gonna sola la pantalone da solo anch'io però se proprio devo decidere ogni cosa è un'utilità esatto no però comunque per esempio una maglietta lunga cioè non una maglietta un top una camicia lunga sopra il pantalone ah sì quello mi piace no però allora è più o meno hai ragione perché hai in mente tipo la gonna scacchi no quello no capito no no per me allora gonna per me è overrated dipende sugli altri mi piace su certe persone il vestitino che va corto col jeans su alcuni pantaloni tre tagli più grandi vabbè per forza non posso dire altro è giusto per me è giustissimo underrated quasi quasi underrated perché comunque ci permette di sentirci veramente carine cioè almeno a mio avviso poi sono discorsi sempre un po' complessi però io mi sento molto a mio agio col pantalone che non lo sento è molto giustibile esteticamente ti piace molto magari non troppo perché poi ogni cosa quando si sa già è troppo però un po' largone un po' così mi piace sì sono d'accordo calza bianca vabbè vabbè giustissimo spero che piaccia a tutti non può non piacere molto bello d'accordo ovunque boxer come pantaloncini viva culotte milano andate tutti a seguire c o o eh no l u no culotte c o o l o brava culotte culotte hot a me piace molto voglio dire che secondo me underrated perché secondo me non è stato non è stato pushato abbastanza comunque è una hit perché sono dei pantaloni corti se li fai cioè magari non proprio le mutande di mio padre è capito perché la mutanda del papà io ci ho provato il dietro sono fatte strane il dietro fa proprio mutanda raga cioè avete presente quella infatti culotte li fa proprio che sembrano boxer ma sono e a me quella roba piace molto perché funziona proprio è comodissima esteticamente è molto bello è larga la metti con tutto e poi veramente in estate puoi metterla in tutte le occasioni in città al mare qualsiasi posto ed è comodissima mi sembra veramente una hit non d'accordo si li puoi mettere veramente sempre sto non mi sta iniziando a piacere la culotte con lo stivale è un po' ho fatto quello step lì un po' facile no è facile l'anno scorso proprio ma di gusto cioè andavo adesso mi fa non so perché mi fa sensazione anche lì tipo terza media tipo ok ci sto capito però oggi ti vendete lunga la gamba molto la gamba e sa oggi infatti è un tema è un tema è un grande tema da capire vabbè andando veloci occhiali veloci over overrated per me anche per me overrated ne ho un paio li metterò continuamente comunque però la roba della mascherina sono belli però troppa roba basta ma Pichato a nessuno di voi sarebbe piaciuti così tanto se non fossero andati in moda come come un'altra cosa dico le Salomon come le Salomon avrebbero detto sono le scarpe trekking montagne cazzo me le metto sono andate di moda niente tutti come Salomon a Milano sono belle sono fighissime ma c'è un botto però oggettivamente guarda per cui di cibo poi la cosa mi dà più fastidio l'occhiale veloce 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 no a ballare ah no vabbè l'occhiale a ballare in generale ti prego allora se lo devi mettere bello a me piace te lo metti in giro con un look d'aggiorno non da sera cioè la sera raga non c'è il sole non servono l'occhiale se stanno andando un rave no se stanno andando un rave vabbè va bene c'è una parte del look a un rave e poi non deve essere di Shane se posso permettermi perché la credibilità cade completamente cioè se c'è quell'occhiale almeno che ci sia uno studio ed è cioè visibilmente una cinesata e vai a un rave poi oh raga non prendete quello di Valenciaga stiamo tutti d'accordo allora sei un poser del cazzo mi sono espressa minchia raga stai diventando veramente non è lì su puntata raga comunque calma no esatto allora special slash tiger insomma tutta quella wave di sneakers giusto giusto secondo me a questo punto io distingo forse un po' leggermente over però mi piacciono molto per me è un po' overrated della special giustamente rated della tiger cioè e la samba la samba overrated ah perché dobbiamo dire la spezia no io ti dico giusto leggermente overrated ma perché è più overrated di così non c'è una modella che non abbia quelle scampi è un po' quello però giusto capisco è successo crocs allora secondo me underrated tu dici dovrebbero essere più secondo me potrebbero essere per me over ma non over la crocs non la mettono così tante persone amo no ma è considerata quelli che la mettono per me è immettibile per me la crocs erico sto parlando con te no per me può funzionare la crocs per me la crocs con la platform è inguardabile ma come le osservate con la platform le platform in generale sono complicate però per noi basta le superga con la platform vabbè mi si blocca il cuore qua comunque però le crocs cioè io mezzo che questa estate me le prendo nere no io non me le compro non me le compro le crocs ma è quella cosa che è talmente anche un po' concettuale la crocs perché la crocs mi è concettuale a me le cose concettuali fanno incazzare però lo è talmente lo è talmente troppo concettuale lo odio lo schifo mi piace comunque non puoi dire overrated perché comunque oggettivamente non ha ancora fatto quello step in più da essere cioè non è la birch ma è solo che la stanno prendendo in considerazione già che sono che stanno sì ma stanno prendendo in considerazione perché Enrico Sorbini le mette però di base non l'avevi dimessa dai quindi non puoi dire che sia overrated è considerata ancora una scarpa brutta la birkenstock la comodità la comodità e comunque ce ne sono a me piace altra cosa che se non fosse nata di moda cinque anni fa l'avessimo messe l'avessimo messe di insulti chiunque l'avrebbe messe poi ora che è nata di moda ovviamente è figa ed è figa certo beh io vi propongo una questione le friulane che questo è fuori script le friulane è complesso da analizzare secondo me a me è da fastidio perché le friulane hanno assunto un'accezione sociale negativa negativa cosa che però secondo me c'è negativa che non ci appartiene sì che non è reale cioè un'accezione sociale così molto politicizzata quasi ed è colpa comunque di determinate persone al potere di determinati influencer esatto però a me piace sono totalmente belle le friulane sono belle sono comode io sono totalmente team Mary Jane le friulane normali non sono mai riuscita a mettermele ok le Mary Jane però belle vuoi mettere le altre friulane no non le voglio mettere però quasi non me le compro a me piacciono lo stesso tema scusate messaggio a gallon quando è che arrivano le nuove Mary Jane sabato sera mi andò risposto subito a fine mese oddio vabbè corriamoli anche a me piacciono amore le Mary Jane comunque la friulana mi rientra anche un po' nella samba non dico che ho avuto quel successo lì è una roba ancora milanese o comunque femminile italiana e comunque femminile anche se ho visto degli uomini acquistavano abbastanza bene cosa volevo dire è un po' come la samba nel senso che ha tanti colori la puoi mecciare tanto puoi metterla col panta lungo puoi metterla col panta corto è talmente versatile che non posso dire che è overrated è comoda è stiva ma è anche invernale se la metti sotto con la calza che non mi piace ma puoi metterla anche sotto con la calza funziona la friulana io dico di sì Meneghina e Milano il dubbio il shout out anche no shout out forse non è la parola giusta sicuramente insomma cerchiate di usarle a livello igienico nel modo giusto perché comunque si soffre quando vengono tolte da persone e abbiamo tutti in mente una persona credo no sì sì non ce l'ho non ce l'ho lo sa pure lei lo sa pure lei sì sì vai avanti ma chiuderei con i vestiti da calcio quindi tipo non so se si dica tipo soccer core per me belli si mette un po' un mese ci stufa belli occio perché puzza un sintetico altra cosa che se non fosse nata di moda tutti avrebbero insultato quindi attimo da rivedere però sì però a me piace il pantaloncino sportivo io l'ho preso per quest'estate e poi comunque è sempre una roba che finché va di moda una cosa comoda benissimo cioè ma benvenza chi sono io per giudicare ma che vadano di moda i pigiami le tute ecco ecco l'ho detto l'ultimo e poi chiudiamo il leopardato che sta spopolando veramente lo amo assurdo assurdo leopardato tre anni fa ma anche meno tre anni fa forse sono troppi pochi forse sono troppi pochi però era azzarro non lo so amo era azzarro era azzarro non soltanto azzarro era un po' da provinciale sì cioè comunque da non so direi burino ma non è burino un po' kitsch kitsch trash va bene era così fine i brand non li tocchiamo abbiamo fatto un'ora e uno va bene se volete facciamo velocissimo Nike Adidas Nike cazzo però i pantaloni no 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 Adidas Adidas raga no per me è scarpe Nike abbigliamento no Adidas anche io ti dico Adidas il tutto comunque Marra ci insegna che dobbiamo votare Adidas esatto io dico Adidas Pulenberg Zara Zara dai come on Balenciaga Bottega Veneta Bottega Veneta Balenciaga Atamarra ma poi uccidono i bambini Subduet no scherzo Subduet Brandy Melville Brandy Melville però odio quella roba delle taglie inclusive esclusive cioè che hanno una taglia non puoi che per me è una roba è una roba da malati mentali comunque mezzo che ritorna la canotta col cuore ah certo o la tot col cuore certo guarda dico Subduet soltanto perché quella maglietta che diceva tipo daddy's girl non daddy's girl tipo domani faccio la brava ah no forse la Brandy quella domani faccio la brava forse era Brandy segno dell'infinito con always era Subduet l'ho messa ma l'ho messa proprio io la canotta raga col cuore che mi ricordo che la mettevo talmente tanto con la bandiera americana era lunghissima avete in mente stupende anche con la bandiera americana i pantaloni un po' quelli leggerini ultima domanda e finiamo ma è rapida è un sino tipo se tornassero i pantaloni leggings con le galassie ora fermatelo qua in puntata che se tornano vedete bella lid con i pantaloni delle grasse giurate che voi non li mettete no raga io non sono pronta io non le metto no sicuro tornano raga ma gli skinny jeans la tornano sicuramente gli skinny jeans sono già tornati secondo me skinny jeans però skinny jeans tipo da leggings jeans cioè il conato qua i leggings i leggings fatta jeans ma raga il male di pancia che ti veniva quando noi no 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 mezzo alle cosce io ricordavo andavi in bici perché io non avevo un motorino vabbè raga apriti il cielo apriti il cielo vabbè comunque sono torna l'altro giorno ho visto forse in brata che aveva i jeans stretti eccola lì sì 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 io oggi in strato non ce la faccio lo giuro non ce la sento non ce la sento va bene ciao raga comunque tutti i gusti dei gusti non disputando est e il mondo è bello perché è vario est radio est clothing e chi siamo ne puoi giudicare viva tutto però comprate esclothing esatto comprate esclothing culotte 1010 studio meneghine tutto quello che volete milano cilè giglio tigrato bex vacondo giglio tigrato viva milano viva milano raga guardate small business ecosostenibili tutto quello che volete ciao raga vi vediamo un bacio